Ciao ragazzi! Ciao! Come vedete anche oggi siamo quasi all'ora di andare a letto Però cosa abbiamo visto? Che c'è un evento in corso su Toka World C'è scritto che è il loro compleanno Ti invitiamo a festeggiare Cosa avranno messo? Vediamo un po' qua Se noi tocchiamo Ci dice Hai preso i coriandoli? È il compleanno di Toka Life World E festeggiamo con un sacco di regali nell'app Un sacco di regali? Andiamo a vedere Vai apri Ok Alissa andiamo a vedere Vai Ma alla posta ce li avranno messi? Sì Eh di solito Gira la tasta Ok Noi siamo sempre qui con il nostro fidato banchetto da letto Ormai ragazzi abbiamo le giornate talmente piene Tra la scuola, lo sport, i compiti Le uscite, il divertimento eccetera Che ormai il tempo per i video Ci rimane giusto quella mezz'oretta scarsa la sera Quando siamo già in pigiama E allora ci vengono in mente le cose da fare Comunque Aspetta no Voglio la mia personaggia Non è qui Altrimenti non c'è gusto Qua ci sei tu E questa forse sono io Era ancora vestita così un po' sportiva Guarda io preso il capello dei miei dorsi Prendiamo Ok No la voglio cliccare io Tic Ma tanti regali E poi uno Ma delusione Non è neanche dorato Ma che è Ma che è sta cosa Dove sono i regali Mi sono stati promessi dei regali di compleanno Dove sono Dove sono Tocaward ci stai imbrogliando Ci hai attirato con una trappola In realtà non ci sono i regali Devono esserci da qualche parte Alissa Dobbiamo scoprire dove sono Ah No No scusa Guarda È caduto il tablet Ma automaticamente si è messa questa faccia Ma come Ma scusa ma Come ha fatto Io devo riguardare il video E capire cosa è successo Ci stava troppo bene Vabbè Comunque Dobbiamo andare a cercare Sti regali Alissa Cioè Questo ci ha detto Che se aggiornavamo il gioco C'erano i regali del compleanno di Tocaward Dove sono questi regali Dove ce li avete messi Andiamo a vedere Qui ci fa vedere quali dovrebbero essere Il tuo polino Tutte queste cose Dove sono? Eh pure questo Allora Qui nella creazione personaggio Abbiamo trovato delle cose Che forse prima non c'erano Come queste maschere E poi io sinceramente Non mi ricordo neanche questi cappucci Alcuni qua Questo di Babbo Natale Secondo me non c'era Vediamo se c'è anche il vestito Sì Eccolo Vedi Secondo me questo è un aggiornamento Che hanno messo adesso per il Natale Ma io adesso aspettate Ma io non voglio essere vestita così Ora mi faccio No Ho sbagliato Non mi faccio a ritornare me stessa No Ora sarò per sempre un drago Aspetta Aspetta questa Sai di sangue Come? C'ho questa Vediamo se ci sono dei capelli nuovi Questi non c'erano Nemmeno questi Guarda che carino anche questo Con lo scimmion Con lo scimmion Come diceva Alissa Scimmion Cosa? Io dico giusto Scimmion Lo scimmion Come Gilberto Gilberto è uno scimmion Vabbè Allora facciamo così Mi faccio la coda Ok Sono pronta Guarda adesso li vedo Si tocca Facciamo l'esplodio Wow Ma questi sono gli eroti mostruosi Che avevamo preso E sono comparsi così Che figo però Questo modo Cosa ti fa vedere Pure quali sono quelle nuove E quali no Oh Questo ci serviva Che ogni volta Non lo capivamo ma Wow Scusa ma ci siamo sincronizzate Stasera Oh Basta leggermi nel pensiero Quello che devo dire Che carino Che carino Guarda questo Bello T'assomiglia Proprio il ragno Anzi cos'è Un pipistrello ragno Guarda che bello Vabbè Ma non dovevamo fare il video Sugli eroti mostruosi Lissa Questo è un altro tema Voglio vedere cosa c'è qua dentro C'è qualcosa Apri Oh Che paura Quindi Ah vedi Adesso Quando ci sono degli eroti nuovi Fa Quel pacchetto Che esplode Basta è finito Boh ragazzi Non Non capiamo bene Quali dovrebbero essere Questi Fantomatici Regali Che Millantava Tocaward Perché Sì ok Abbiamo visto delle cose Ma se non ce lo dite Che cosa c'è di nuovo Ma secondo me C'era qualcosa nella posta Che non abbiamo visto Trovati Erano qui nella posta Erano già qui Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Cioè In questo video Abbiamo fatto Un po' di disastri Però abbiamo scoperto Anche delle cose interessanti E eccoli qua Guarda C'è la famiglia Dei bradipi Il pesce Sì E poi questa Con sol Quella che avevamo visto Nell'anteprima E guarda qui dietro Eccole le cose Per festeggiare No 2021 Non è vero Vabbè festeggiamo Il 2021 E torniamo indietro Nel tempo Aspetta Ma basta Ripetere quello Che devo dire io Ma non dico niente Allora Aspetta Vai Fai esplodere No Ma questo maglioncino Forse è nuovo Il pigiamino Dai ci possiamo vestire Tematiche Ma io non sono così piccola E vabbè E tu ti metti questo Oh ma questi Mi sa che sono quelli Delle robe mostruose Ma perché Action detective E qui E questo fa parte Di questo set Vedi c'è la roba Tipo tirata Questa è una scatola Vedi è lì Ma basta Sti fuochi d'artificio D'artificio Di fuochi d'artificio Allora Prendiamo tutta sta roba Tutto Prendi tutto E qui Allora No Questa Questa è mia Giù che Aspetta Guarda la roba Ma guarda la roba Questa c'era Questa c'era Questa c'era Questa non c'era C'era E questo E questo c'era No Questa è la cosa Che aspettavamo tutte La maschera Dei bravi Ma questa roba c'era Io non mi ricordo più Ragazzi Troppa roba Questa fragola Io non me la ricordo però Ma come la mangiare Dai corsetela a te E vedi che c'era Lo vedi Ma perché mettono le cose mischiate strane Questa c'era No Quella era della festa della luna Guarda Vedi questo Ricordatelo Ti hai metterlo in mente Cosa è vero E E E E E E Eccoti là Prendo questa E' più cute Aspetta che mi voglio mettere Un'espressione felice Finalmente Alissa Evviva Perché Tu rimani Tu rimani così No Basta Cambiarmi espressione Contro il mio volere Andiamo a vedere queste cose Sì ma tu che mi rincorri Vieni qui Alissa Magari hanno aggiunto anche Delle espressioni nuove Guarda Oh calma No 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 Che calma Guarda qui No questa c'era dal mese scorso Io non l'avevo mai viste Te l'avevo anche fatto vedere E io non ti stavo ascoltando Comunque tu che urli Noi che urliamo Così intanto al piano di sotto Che stanno cercando di dormire Noi che urliamo Un'espressione Tantissimo Infatti io ti ho detto Calma E tu no Super tardi Sono quasi le 11 Cioè io che ti dico Calma E tu no Aspetta Aspetta Adesso mi calmo Mi faccio un tè In silenzio Prendi questa Tazzina Siamoci un po' di tè Che stava lì da tre anni Come già presi Con queste tazzine Guarda Era lì da tre anni Ma è ancora caldo Però L'abbiamo preso lì Dalla posta Non è che l'abbiamo fatto Ora Fresco E io guardo Fresco Cioè è caldo Vabbè Senti Rilassiamoci No volevo io Quella del Bradipo Ehi Tu quella dell'Axolot Io adoro questa faccia Axolot Eccola Oh Questa è anche più bella Senti Questa stanza È più disordinata Di casa nostra E già questo È tutto un dire Visto che casa nostra È un casino Piano Silenzio Silenzio Guardate Io sono Guardate questa Con il mio bel Pigiamino Del fenicottero Leva quel piede Che lo vedo Dallo specchio Lo vedi E sento anche La putta Che cosa No te li sei lavati Dai Senti Questo ce lo dobbiamo Appendere a casa Però è troppo carino Sì Guardalo che dolce Io ce l'ho già Dato tanti giorni E però Aspetta Io mi voglio vestire Mi voglio vestire Da natalizia Ma perché Perché cosa Perché tu hai Ti sei presa Quello che volevo io Ma è più carino il tuo Vabbè no io però Le ciabatte Facciamo subito Oscar No vai via No No Non te lo permetto Me lo voglio tenere io Aspetta Va bene va bene Te lo do perché ho visto questo Che voglio provare Vediamo Ma cos'è È questo anche Che non so che è Eccolo Era quello che c'è È un punto esclamativo Centro Stava proprio al centro Però non capisco che oggetto è Che bella la casina delle bambole Questa c'era Me la ricordo però È sempre molto carina Questa sei tu mamma Siamo io e te Ma cos'è È un batuffolo di sporco No è terra Siamo io e te Guarda io e te Ok mettiti il pigiama Che vorrei andare a letto Questo è nuovo Sì Sì L'arcobaleno col culetto E questo c'era Questo termos Con le tazze Belle No non c'era Guarda quante cose Ma forse quelle erano quelle di San Valentino No non c'era Ecco questo Eccolo Sì sì brava Ma che bello Dov'è la felpa Dov'è il vestito Eccolo qua Oh ragazzi Ci abbiamo messo un po' A trovare questi regali Ma alla fine ce l'abbiamo fatta E ne è valsa la pena Cercarli Bene ragazzi È tardissimo Domani c'è scuola Perciò mettiamo soltanto Questo cappello ad Alissa Perché glielo dovevo provare Trovo bello Quindi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo trovato i regali Di Tocaward Anche se ce li avevano nascosti Ma noi siamo le detective Di Tocaward E tra l'altro infatti Guardate cosa c'è Action detective Proprio come avevamo predetto E allora ragazzi Noi ce ne andiamo a letto Voi no Perché questo video Lo pubblicherò di pomeriggio Quindi ancora giorno Voi avete tutta la vita davanti Potete fare quello che volete Anche noi Sì anche noi Però Basta Adesso stasera rompo il tablet Ormai ha deciso Vabbè Dovevamo andare a dormire Alissa Ciao Buonanotte Arrivederci Arrivederci Buonanotte Il video è finito E voi non fate come noi Non fate tardi Quest'ora Perché non si va A letto alle 11 Mi faccio piacere Con chi ci sta guardando Ma perché devi fare ste cose Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao